...davanti nel punteggio, quando hai avuto di fatto la partita in mano e poi te la sei fatta scivolare via. E tu cosa ne pensi della partita Luca? Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali, evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo sfondamento centrale, una strategia che alla fine è balza loro la vittoria. Si chiude qui il nostro collegamento, grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.